Siamo alla metà del mese di ottobre. La Santa Chiesa di Dio dedica questo mese a due aspetti. Il primo è un mese della Madonna, cioè Maria è la protagonista che vuole essere madre che accompagna. Il secondo aspetto è la missione, sì, cioè l'attenzione alle persone che decidono di partire, di lasciare tutto per andare dove la notizia di Gesù non è ancora arrivata. E allora lo slogan che ci siamo detti una settimana fa può essere davvero il concreto protagonista. Vuoi fare del bene a te stesso? Fai del bene agli altri. E allora la concretezza di questo gesto può avere due aspetti, ve li suggerisco. Il primo è trovare il tempo, l'occasione per fare due chiacchiere. Quante volte ho fatto la battuta, toc toc, Don, hai un minuto? Qualche volta parlare di ciò che ti sta a cuore è davvero la soluzione giusta. Con un volto amico, con una persona, con un prof che ha fatto qualche passo in più nella vita. E anche nella preghiera. Quell'Ave Maria che diciamo tutti i giorni non è una filastrocca, fin per e pet tenusa. O se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovis costantinopolizzasse, vi disarcivescovis costantinopolizzareste voi? No, neanche uno sciogli lingua. Ma è una chiacchiera tra amici. Come quando uno è un po' nei casini e chiede aiuto alla mamma. Perché alla fine, anche se siamo grandi, quando siamo in qualche macello chiediamo aiuto a chi è più grande. E allora quel momento di preghiera che facciamo tutti i giorni, al buongiorno, non vuole che essere l'occasione per insegnare ad avere un piccolo dialogo. Come rendere concreto? E qualche volta faccio così. Beh, la scatola dei biscotti, penso che conoscete tutti che non ci sono i biscotti dentro. Quella della nonna di solito ha il cucito. Nel mio è così. Sotto la croce perché ogni tanto quando arriva qualcosa che non so come sistemare, prendo un bel foglietto e dico Gesù a questo casino ci pensi tu. Caccio dentro e poi controllo. Dopo un po' se ha lavorato. Ecco, dopo controllo se le cose che ho affidato al buon Gesù, le cose che ho affidato a sua madre Maria davvero sono risolte. Tante volte mi stupisce vedere, qualche settimana, qualche mese dopo, come davvero ciò che non potevo risolvere. È stato risolto e sistemato dall'alto. Perché forse la migliore preghiera è quella che insegna, San Thomas Moore. Per vivere bene devi capire che cosa puoi cambiare. Qua lo dovrai tagliare. Dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, come se dipendesse tutto da me. Dammi la pazienza di sopportare ciò che non posso cambiare e dammi l'intelligenza di distinguere le prime cose dalle seconde. Buona giornata. Martedì 19 e giovedì 21, il gruppo animatore Triennio animerà le classi prime nei loro ritiri. Da lasciarlo! Da lasciarlo! Non che gli gira la testa poi a Don Coso! Hai caduto! Ma si rialza!